Cari amici, la notizia oggettivamente storica dell'istanza per il riconoscimento di una nullità della dedicazione del Benedetto XVI, depositata il 6 giugno da chi vi parla presso il Tribunale Vaticano, nonostante il militante boicottaggio del mainstream, è filtrata ugualmente in Italia e all'estero. Per le strade del centro storico di Roma, anche sotto Santa Marta, continua a girare il camionvela che conoscete e ieri sono apparse anche decine e decine di paline sui marciapiedi, cioè pali di ferro con un riquadro per esporre il manifesto, queste paline sono apparse sui marciapiedi intorno al Vaticano con il messaggio in 5 lingue e il link all'inchiesta che conoscete. Sarà un caso, ma proprio da una settimana si registrano improvvisi smottamenti, riposizionamenti, depistaggi e goffe, strategie difensive e bergogliane, tentativi tutti accomunati dalla eloquente chirurgica rimozione della magna a questio sulla sede impedita di Papa Ratzinger. Perché non si parla mai, anche in termini negativi, volendo, di questo argomento, di un libro come Codice Ratzinger venduto in 20.000 copie, vincitore di due premi giornalistici presentato in 125 conferenze in tutta Italia? Ovviamente perché il punto dolente è quello. La strategia banale è quella di evitare il tema in modo completo, facendo passare l'autore dell'inchiesta per il solito romanziera Latin Brown. Ora, se così fosse, sarebbe ben rischioso depositare un romanzetto in un tribunale, non credete? Comunque, fra queste iniziative che portano fuori strada i lettori, un articolo uscito su Domani, il 15 giugno, a firma dell'ex direttore dell'Osservatore romano, Gian Maria Vian, che nel suo ultimo libro riprende un brano di ultime conversazioni di Peter Sevald. In questo passo, da noi già analizzato nel 2021, cioè tre anni fa ormai, Benedetto ammetteva che, secondo la profezia di Malachia, egli avrebbe potuto essere l'ultimo Papa per come lo conosciamo. Ovviamente Vian non ha colto o non ha voluto cogliere il senso ovvio del messaggio in restrizione mentale larga. Benedetto, essendo in sede impedita, potrebbe davvero essere l'ultimo Papa canonico, l'ultimo Papa per come l'abbiamo conosciuto finora. Se il prossimo conclave dovesse annoverare anche i falsi cardinali di nomi in antipapà, le proseguirebbe la linea successoria bergogliana illegittima. Quando non ci saranno più, minimo, tre veri cardinali per eleggere legittimamente un vero Papa, la Chiesa Cattolica sarà finita. Stranamente anche Paolo Mieli ha raccolto questo input di Vian, sempre continuando a evitare l'ovvio di rompenza del messaggio. Papa Benedetto, in un'ottica politicamente corretta, la domanda di Sevald avrebbe dovuto rispondere no, dopo di me c'è comunque il legittimo Papa Francesco, quindi io non sono certo l'ultimo Papa, come erroneamente affermava la profezia di Malachia. E invece risponde tutto può essere, non cita affatto Bergoglio, chiaramente perché non è il Papa. Su Repubblica poi compare il 17 giugno un altro spacchettamento, per così dire, dal libro di autopropaganda difensiva, è il successor. Il titolo molto ingenuo è Ratzinger si è dimesso per onestà. E in questo testo si insiste con una plateale escusazione un petita sulle dimissioni di Papa Ratzinger, che lo stesso avrebbe offerto perché non aveva più le forze per un altro viaggio apostolico a Rio de Janeiro. Ora, perché tutta questa insistenza sulle dimissioni di Ratzinger? Ratzinger forse c'è qualcosa che non va? Sarà per questo che continua a tornare il tema delle dimissioni di Ratzinger? Non è un po' troppo? Che ne dite? Come abbiamo ricostruito giorni fa, Papa Benedetto, dopo aver verosimilmente subito un attentato attraverso sonniferi nel marzo 2012 a Cuba, evento corroborato dalle tre versioni divergenti sull'episodio, si fece porre in sede impedita per congelare la vita giuridica della Chiesa e rendere antipapa ogni suo competitore, altro che la ricostruzione di Birocal Francesco. Il più surreale di tutti è però un articolo comparso su Il Fatto Quotidiano, martedì 18 giugno, dove si parla sì di sede impedita, ma in termini completamente stravolti. Secondo quest'articolo di Filoreto d'Agostino, dal titolo appena appena un po' intimidatorio, i congiurati antipapa possono essere scomunicati e cacciati, Secondo quest'articolo, in Vaticano circolerebbe un documento per simulare Bergoglio tramite udite udite la sede impedita, ma non quella Benedetto XVI, ma una sede impedita di Bergoglio. Secondo tale ricostruzione, un gruppo di cardinali vorrebbe mettere in impeachment Francesco per manifesta incapacità dopo le sue uscite sulla frociaggine, eccetera, eccetera. Questo impedimento farebbe appello all'inabilità prevista dal canone 412 e quindi tale iniziativa li porrebbe il rischio scomunica. Ora non sappiamo se questo sia vero, ma la notizia profuma molto di depistaggio, magari per cominciare a parlare di sede impedita in termini colpevolizzanti per i cardinali, spostando l'oggetto del canone 412, cioè la sede impedita, da Benedetto XVI a Bergoglio. Allora, cerchiamo di chiarire una volta per tutte, Francesco non è mai stato pava perché era Benedetto XVI ad essere in sede impedita. È stato detronizzato da un conclave abusivo convocato a papa, non abdicatario. Non c'entra nulla la presunta incapacità di Bergoglio, il quale invece è perfettamente lucido, anche se arranca decisamente nella propria disperata difesa. È una costante di questi sospettissimi articoli che nessuno degli autori si azzardi nemmeno a sfiorare di striscio l'arcinota questione della sede impedita di Benedetto, per la quale, come sapete, è stata depositata in tribunale l'istanza. Del resto ci sta pure come strategia difensiva per Bergoglio. Sguinzagliare i giornalisti amici, confondere le carte sulla sede impedita, ma si parla di sede impedita di Benedetto o di Bergoglio? Non capiamo niente. Far trapelare minacce di scomuni, che imbonire il pubblico con la favoletta dell'amicizia con papa Benedetto. Una tattica sfaccettata, diciamo, ma evidentissima, proprio per l'ostentata indifferenza verso il tema della sede impedita di Ratzinger. Cioè, cercate di capire, eh? Ce l'ha uno spin doctor, Bergoglio? Allora, se c'è questo spin doctor, mi rivolgo a lui. Guardate, se voi continuate a parlare di tutto, tranne che della sede impedita di Ratzinger, questa cosa si vede! Si vede! Eh, cioè, è ridicola, no? Parlate di tutto, tranne che di quella roba lì. E come dice Nanni Moretti, mi si nota più se vengo o più se non vengo? Ecco, in questo caso si nota molto se non parlate della sede impedita di Benedetto XVI. L'impressione è quindi che i bergogliani, ma anche certe ben note fazioni tradizionaliste, vogliano agire sui media per tentare di condizionare l'attività della magistratura vaticana. Colpisce anche il riposizionamento recentissimo dell'ex vaticanista Tg1 Aldo Maria Valli, da che era graniticamente sicuro dell'abdicazione di Benedetto, da pochi giorni ha cominciato a ventilare invece la possibilità che Bergoglio possa essere antipapa. Benedetto avrebbe fatto sì un'abdicazione invalida, ma non perché in sede impedita, bensì perché era etico e modernista, come dice Radaeli, quindi non aveva capito bene il ruolo del papa e ha cercato di sdoppiare il monospetrino fra due papi. Non si capisce allora perché se Ratzinger ha voluto sdoppiare il papato, per nove anni ha sempre ripetuto, non ci sono due papi, il papa è uno solo. Ma, chissà, mistero della fede o forse della sua mancanza, il tentativo miserevole e blasfemo, e blasfemo di far passare per il retico e modernista Benedetto XVI, strada sulla quale è stato pioniere l'arcivesco Vigianò, che non ha smentito di essersi fatto riconsagrare vescovo dallo scismatico Williamson, si spiega facilmente. Di fatto, questa bagianata sul Ratzinger eretico e modernista salverebbe lo status quo e i privilegi per molti cardinali. Allora, pensiamoci, se è stata colpa di Benedetto XVI che era un rimbambito, era eretico, modernista e sbagliandosi ha fatto un'abdicazione invalida, Bergoglio, poverino, è innocente. E' con lui tutti i cardinali che l'hanno votato e difeso per questi anni. Poverino Papa Francesco non lo sapeva di essere antipapa, non lo sapevamo neanche noi perché noi siamo tutti mistici, siamo sempre in adorazione del Santissimo e quindi non ci occupiamo di questi dettagli canonici, non sapevamo che bisognava rinunciare al munus, non abbiamo capito. E' tutta colpa di quell'incompetente eretico e modernista di Ratzinger che ci ha giocato questo tiro. Grazie a questa sciocchezza del Benedetto XVI eretico e modernista, sapete che cosa vi potrebbe succedere? Che questi tentino pure un colpo di Stato, rifanno un conclave per il 2013 e rieleggono Bergoglio, o meglio, lo eleggono per la prima volta. E stavolta lo eleggerebbero validamente, magari in cambio di un accordo sulla conferma di porpore e privilegi. Capite quanto è pericolosa questa storia? Oggi un lettore ha commentato acutamente un mio podcast dicendo che questi vogliono negare il sacrificio di Benedetto XVI. E' come dire che Gesù è morto di sonno? O è morto di freddo? E' la negazione del sacrificio del vicario di Cristo. E' la cosa più terribile e orrenda che si possa fare. E' come dire, no, Gesù non è morto in croce per la nostra salvezza, no, lui è scivolato, è caduto in un burro, è sbattuto alla testa su un sasso ed è morto. Ecco, questa è l'approccio. No, ma Benedetto non è che ha sacrificato il suo trono per salvare la Chiesa, per congelare la vita giuridica dello Stato Vaticano, per rendere antipapa ai suoi nemici, per scismarli, per portare il grano e la zizzania a maturazione, per dare seguito a quello che scriveva San Paolo, non era il cateco, no, era solo un poveretto rimbampito, eretico e modernista che si è sbagliato. E quindi se si è sbagliato, accidenti, sto cavillo del monus, e beh, adesso come lo saniamo? Facciamo un conclavetto pre-2013 e rileggiamo Papa Francesco, così saniamo in radice la questione. Capite? Ecco che cosa vi stanno per regalare questi benpensanti. Allora, se dovessero mai tentare un colpo di mano del genere, io pubblicherò l'istanza sulla sede impedita, la pubblicherò sul mio sito, a disposizione di tutti, in otto lingue, gratuitamente a disposizione del mondo intero, con tutta la documentazione che contiene, e anche altro che, fino adesso, mi sono tenuto al pizzo per protezione. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Cari amici, noi ci vediamo il 29 a Perugia, e forse ci sarà presto un'altra data contigua a Perugia, ma vedremo domani. Un caro saluto a tutti.